Telefonata tra il Premier Draghi e la Presidente cinese Xi Jinping sulla crisi afghana e sulla cooperazione internazionale, compreso il G20. Di Maio, continueremo ad aiutare l'Afghanistan, guerrini pronti ad alte evacuazioni, allarme umanitarie dopo la caduta del Fanshir. Figliuolo, superato l'80% dei primi somministrazioni, ancora non vaccinato 1.800.000 cinquantenni, bianchi, il 13, tutti i docenti a scuola. Decreto Green Pass, partiti di maggioranza ritirano gli emendamenti alla Camera, il Governo non metterà la fiducia. Vincerò anche questa partita, così Pelé, dopo l'intervento al Colón, il bomber brasiliano rassicura via social. Mostra del cinema di Venezia, terzo film italiano in concorso, qui rido io di Mario Martone, protagonista Tony Servillo, nel ruolo del grande attore e commediografo Edoardo Scarpetta, nella Napoli del primo novecento. Buongiorno dalle TG1, colloquio telefonico in mattinata tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Presidente cinese Xi Jinping. Al centro la crisi afghana, i possibili strumenti di cooperazione internazionale, compreso il G20 straordinario. Ci aggiorna subito in diretta da Palazzo Chigi, Mario De Pizzo.